Anna Russo e Miss Simpatia Ragazzi e ragazze con il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo hanno preso parte alla finale del concorso di bellezza Miss e Mr. Friend Fashion svoltasi al teatro Achille Saitta di Sant'Angelo di Brolo Dopo le varie tappe provinciali che quest'estate ha toccato le punte della Sicilia lo staff della Friends Music Academy, promoter del concorso e il patron Maria Vitale hanno riservato dei premi veramente unici per i finalisti del concorso L'iniziativa ha visto anche la collaborazione della AJ Edge Fashion Events di Giuseppe Crisafulli, di Tarme Vigliatore e di Michele La Rosa patrone del concorso Miss Jeans Fashion di Randazzo Valida soprattutto la collaborazione con il concorso nazionale Ragazza Protagonista e Il Più Bello d'Italia by Carlo Minghetti Infatti accanto ai tantissimi concorsi di bellezza femminili non mancano importanti concorsi di bellezza riservati agli uomini e tra questi Il Più Bello d'Italia il cui vincitore viene chiamato Mister Italia e senza dubbi il concorso di bellezza maschile più importante è stata incoronata Mister Friends Fashion 2014 Emma Versaci, 15 anni di Rocca di Caprileone Mentre il Mister Friends Fashion 2014 Paolo Perseo, 19 anni di Patti Per entrambi la finale nazionale del concorso Ragazza Protagonista e il Mister L'Accesso al concorso nazionale Il Più Bello d'Italia che si svolgeranno a Roma l'8 dicembre 2014 al Teatro Italia Si sono aggiudicati inoltre De Gioelli by Fatima Befumo Creazioni un book fotografico professionale e contratto di lavoro con l'agenzia di moda J&G Fashion by Giuseppe Grisafulli Termevigliatore e ancora un abbonamento per un anno full time presso la palestra Ginnasium di Tiziana Rizzo di Rocca di Caprileone Mentre il titolo di Miss Friends Fashion Portamento è andato per le Miss a Maria Chiara Li, 15 anni, di Galatima Mertino e Miss Viso a Maria Alexandra Bercea, di 19 anni, di Naso e per i Mister Andrea Marzullo, 18 anni, di Catania Miss Viso e Joneth Brissur 17 anni, Rocca di Caprileone, Miss Portamento 2014 Anche per loro l'accesso alla finale nazionale del concorso Ragazza Protagonista e il Mister l'accesso al concorso nazionale Il Più Bello d'Italia che si svolgeranno a Roma l'8 dicembre 2014 al Teatro Italia l'organizzazione della Friends Music Academy il presidente Mario Valenti l'organizzatrice Giussi Lombardo e i coreografi Esther Muni e Ciccio Mazze grazie alla collaborazione di rinomate ditte presenti nel territorio Nembroideo hanno assegnato altri importanti riconoscimenti ai partecipanti Maria, io ti devo ringraziare per avermi coinvolto sono state due serate splendide due serate dove mi sono divertito voglio fare ancora una volta i complimenti a tutti i ragazzi ai fasciati ma soprattutto permettetemi e non me ne vogliate a coloro che non hanno conquistato fascia grazie per aver partecipato grazie ragazzi in bocca al lupo per il vostro futuro grazie a tutti grazie a tutti Grazie.